E allora con questo punto sottolineo la necessità che oggi più che mai si apra un tavolo definitivo sul tema energetico senza parlare di ritorno al nucleare e ritorno a fantasie irrealizzabili dall'oggi al domani. La progettualità concrete, progettualità serie che dall'oggi al domani devono permettere di dare un aiuto alle imprese anziché farle chiudere e mettere in cassa integrazione i loro lavoratori perché il costo dell'energia, guardate questo è un dato alla mano i dati dell'autorità per energia, è triplicato per il servizio di maggior tutela. Immaginate cosa vuole dire per un'impresa avere 3-4 volte il proprio costo dell'energia. Serve ovviamente una misura rapidissima. Così come servono, e chiudo Presidente, in questa gestione pandemica non abbiamo oggi inserito in legge di bidangio un fondo per la gestione dell'emergenza Covid per le imprese. Abbiamo messo limitazioni al settore del turismo, abbiamo limitazioni reali e concrete che porteranno a una diminuzione del fatturato di numerosi lavoratori e imprese del settore turistico ma si estenderà ad altri settori. Evidentemente, io credo, e con questo abbiamo presentato un ordine del giorno su questo punto, sarà necessario trovare e reperire le risorse. Se questo vuol dire fare un nuovo scostamento di bilancio, il Movimento 5 Stelle è qui a poter chiedere e sostenere con forza. E chiudo, Presidente. Serve chiarezza e programmazione per il prossimo anno. Pandemia e gestione Covid, dall'altra pandemia energetica, sono temi che nel 2022 devono avere azioni immediate nelle prime settimane dell'anno. Grazie, Presidente. Voteremo a favore di questa legge di bilancio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.